La qualità dell'abitare è il New European Bauhaus, come si può coniugare sostenibilità e bellezza? Il pensiero principale che abbiamo esposto è proprio legato al coniugare due aspetti, sostenibilità e bellezza, in cui temi nei quali l'Italia ha molto da dire e una leadership da poter portare avanti. Il pensiero legato alla qualità dell'ambiente costruito e alla cultura che il nostro ambiente costruito rappresenta è un elemento molto importante per la nostra associazione. Di fatti abbiamo dapprima regionalizzato i protocolli energetico-ambientali internazionali della famiglia LEED, quelli più utilizzati al mondo, li abbiamo applicati, coniugati e poi abbiamo prodotto a livello mondiale un protocollo e un approccio che non esisteva, una lettura autentica legata all'heritage, al tema del valore storico-culturale degli edifici, al restauro sostenibile, che è una metafora importante, una metafora che deve farci rileggere le nostre radici storiche, la nostra cultura del buon costruire, la nostra grande capacità del restaurare, per pensare ad un mondo sostenibile che da un lato abbia una risposta alle esigenze delle persone, una risposta all'equilibrio necessario con l'ambiente e dunque con il creato, ma non si dimentichi degli aspetti culturali, degli aspetti storici che sono grande radice per i nostri popoli, soprattutto in Italia con oltre il 30% di asset immobiliari che hanno valenza storico-culturale. Ecco, il messaggio lanciato è riapprendiamo da ciò che sappiamo fare, rivalorizziamo questa cultura per una leadership e una nuova lettura autentica della sostenibilità dal punto di vista del saper fare italiano.